Buonasera, ad Armando Madonna. Allora mister, una gara possiamo dire anche da due volti, dove il Piacenza ha costruito tanto, soprattutto nella prima frazione, ed ha incontrato un super free zone, dove il Piacenza però in alcune azioni da palla inattiva negli ultimi minuti ha anche rischiato di perderla questa gara. Lei è d'accordo su questa nostra visione? Sì, può anche essere, è logico che se la punizione alla fine va dentro, posso perdere la partita, però io devo guardare nel complesso. Siamo delusi, siamo delusi perché abbiamo sprecato troppo e in Serie B non si può sprecare così tanto. La sensazione è che al termine del primo tempo lei abbia detto ai propri calciatori vinciamo questa gara perché non è possibile non vincerla, siete entrati con un piglio diverso nel secondo tempo, sono state queste le parole? Sono convinto che abbiamo fatto anche un ottimo primo tempo. Io ho visto tutti i 90 minuti se parliamo di prestazione, però alla fine conta solo il risultato, conta solo fare gol e noi questo ne abbiamo fatto uno ma non siamo stati capaci a raddoppiare, cosa che nel secondo tempo ci sono capitate 3-4 palle gol davanti alla porta e lì ci vuole più determinazione, più cattiveria per segnare. Siamo stati leziosi sotto porta e questo non va bene nella posizione che siamo noi. Mister, Piacenza trazione offensiva perché se non fa questo il Piacenza soffre, nel senso che è meglio ad offendere che a difendere o Piacenza trazione offensiva perché il Frosinone di oggi era da battere? No, abbiamo sempre giocato così, abbiamo sempre giocato così, abbiamo sempre giocato con i tra attaccanti, abbiamo sempre creato tanto e abbiamo subito un po' troppo. Adesso anche dietro oggi per me abbiamo fatto un'ottima prestazione perché il gol è stata una prudezza di Lodi e quando fanno quei gol lì, tanto di cappello. Però dopo abbiamo cominciato a giocare, siamo stati tranquilli, abbiamo pareggiato e nel secondo tempo bisognava chiudere la partita, tutto qui. E dopo se non chiudi la partita in una mischia o un tiro su punizione può succedere di tutto. Però la partita l'abbiamo fatta, siamo delusi perché in questo momento ci serve più cattivera, ci dobbiamo dare una mossa, ci dobbiamo dare una svegliata, non sotto l'aspetto dell'intensità della partita ma sotto l'aspetto della determinazione sottoporta. Sottoporti ci sono capitati tra tante occasioni e in Serie B le devi fare, se no rischi. Mister, che Frosinone ha vinto? Ho detto che il suo Piacenza ha provato a vincerla in tutti i modi, ha trovato davanti a sé un super free zone, che squadra ha incontrato quest'oggi? Nelle posizioni che siamo in classifica, sia Frosinone che Piacenza, è difficile, non è facile, non è facile giocare, non è facile tante volte preparare le partite, ci sono molte tensioni, molte difficoltà. È logico che il Frosinone è nella nostra stessa situazione, in casa speri di spaccare il mondo, poi sinceramente ho trovato una squadra che ha giocato, è stata tranquilla, oggi stavamo veramente molto bene anche fisicamente, cosa che col Varese quando abbiamo vinto in casa abbiamo fatto così. Però al di là di tutto ce la giocheremo fino alla fine tutte le squadre, è logico che questi punti per noi sono pesanti visto la prestazione. Mister, una curiosità, ascolto un attimo dalla gara, vado sul mercato se me lo consente, si dice, si parla molto di Daniele Cacia, io ovviamente non so che fine farà il calciatore, ma nel caso dovesse essere ceduto, lei ritiene che ci sia un calciatore altrettanto valido o comunque lei è pronta a questa eventualità di una cessione di Daniele in Serie A? Io non posso pensare a queste cose, ho già troppi pensieri e queste non sono mie preoccupazioni, non voglio nemmeno entrarci, intanto a disposizione, sta giocando, tutto il resto lo deve fare la società, non è competenza mia. Grazie. 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 Grazie.